Quello che sta accadendo alla Usquarna non è accettabile, per questo ho depositato un'interrogazione al Ministro del Lavoro, nella quale chiedo che si intervenga al più presto al fine di sospendere la procedura di licenziamento e individuare una soluzione che garantisca a tutti i lavoratori coinvolti la continuità occupazionale. Già Mario Fragomeli, deputato lecchese del PD, annuncia così la presentazione di un'interrogazione al Ministro Catalfo, allo scopo di tentare di fermare il licenziamento collettivo di 81 dipendenti dello stabilimento di Val Madrera. I licenziamenti, spiega il parlamentare, sono stati attivati contestualmente al termine del trattamento di cassa integrazione straordinaria e sono stati motivati dall'assenza di manifestazione di interesse da parte di altri imprenditori per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nonché per l'assoluta irreversibilità delle condizioni del mercato. Ma, sottolinea Fragomeli, l'azienda aveva la possibilità di ricorrere all'utilizzo della cassa integrazione speciale messa in campo allo scopo di fronteggiare la crisi Covid. Un ammortizzatore che, a costo zero per la società, avrebbe coperto i lavoratori ancora per alcuni mesi, consentendo di non arrivare subito ai licenziamenti che lasciano per strada 81 persone e con essere loro famiglie, in una fase nella quale il sistema produttivo territoriale, difficilmente potrà riassorbirli. Deprecabile la decisione di procedere con i licenziamenti anche per il consigliere regionale del PD, Raffaele Straniero. Ritengo di appoggiare la richiesta di audizione in Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, fatta dal collega Mauro Piazza. Se vi fosse anche solo un'ultima possibilità, non deve essere lasciata intentata, continua Straniero. Certo, sarebbe stato importante prendere tempo per trovare eventuali nuovi investitori o soluzioni alternative per i lavoratori. Invece si è preferito chiudere tutto senza appello. Una scelta negativa per un intero territorio, conclude.